Guido Guidesi, l'Agenzia delle Entrate è in commissione per l'attuazione del federalismo? Che dati hai esposto? L'Agenzia delle Entrate ci porta dei dati che dimostrano che la responsabilità nella lotta alle visioni fiscali fa parte solo di una parte del paese, di questo stranissimo paese. Al nord gli enti locali in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate segnalano possibili situazioni di evasione fiscale e grazie al loro recupero incamerano gettito. Invece al sud, dove tutti sappiamo che l'evasione fiscale è la maggior parte, gli enti locali pare assolutamente, se ne freghino totalmente, non hanno la stessa sensibilità. Per cui ancora una volta, anche grazie a questi dati, è dimostrato che l'efficienza e la responsabilità fa parte solo di una parte del paese che è il nord. L'Agenzia delle Entrate ha sollecitato quindi un intervento in questo senso? L'Agenzia delle Entrate ha esposto in audizione i dati, non ha sollecitato niente e credo, visto anche la relazione della Corte dei Conti rispetto al Comune di Napoli, sia anche inutile un sollecito in alcune parti del paese, visto che a Napoli il Comune è in default perché i cittadini si rifiutano di pagare le tasse locali.